Ehi! La sai l'ultima? Dimmi. Il congresso degli ipocondriaci è stato annullato per malattia. Eh? Malattia? Ipocondriaci? Non hai capito, eh? Non fa ridere. Ah, ma come? Se hai viso. Ero ironico. Cioè? Ti ho preso per il culo. Sei contento? Mi hai fatto cascare le palle. L'unico pezzo che mi era rimasto attaccato. Scusa. Scusa, me lo premi? Eh, il pulsante non lo so, iscrivimi. Grazie. 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 Grazie.